Consegnate le nuove divise ai volontari di protezione civile, l'ufficio di protezione civile della città di veneria reale ha partecipato al bando regionale per la concessione di contributi per attività di protezione civile. I dispositivi di protezione individuale sono stati consegnati ai volontari della sezione di veneria durante la cerimonia che si è svolta presso la sala del consiglio comunale della città, alla presenza del sindaco Roberto Falcone, del dirigente del settore lavori pubblici Diego Cipollina e del responsabile del servizio di protezione civile Giuseppe Briguglio. La cerimonia è stata anche un momento per portare all'attenzione il lavoro prezioso della protezione civile, che è sempre attiva non solo in occasione di calamità. L'amministrazione comunale ha approvato la partecipazione con l'atto di giunta che stabilisce l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale per i volontari dell'Associazione Volontari di Protezione Civile di Veneria. L'importo totale per l'acquisto è a 2.964,60 euro, di cui 2.000 euro oggetto di contributo regionale e restante a carico del Comune. I dispositivi sono necessari a consentire l'impiego operativo dei volontari nel rispetto delle normative di sicurezza e sono uniformate conformi alle specifiche tecniche dettate dalla regione Piemonte. Il sindaco Roberto Falcone, responsabile della protezione civile della città, ha dichiarato che i volontari sono una certezza sulla quale Veneria può contare sempre e che in particolar modo sono motivo di orgoglio. Inoltre che la consegna ufficiale delle divise è un modo per ringraziarli e per ricordare la cittadinanza, il grande impegno e il prezioso sostegno che li vede i protagonisti in ogni emergenza. Grazie.